Eleonore Ferruzzi è convinta che Luca Salatino sia innamorato di lei, no, non è uno scherzo. È il riassunto di ciò che sta succedendo in queste ore al GF VIP 7. Sono bastati pochissimi giorni di scherzi, un inizio di conoscenza giocoso e affettuoso tra Luca Salatino e Eleonore Ferruzzi per far sì che lei si illudesse in modo totale, e va detto, dal nulla. Il pubblico d'altronde pende tutto da una parte, Luca non ha fatto nulla per illudere Eleonore. L'accusa alla Ferruzzi è di essersi costruita dei castelli in aria basandosi praticamente sul niente. Inoltre Luca è dal primo giorno che mette in chiaro di essere innamorato della fidanzata Soraya, che ieri ha sbottato contro Sara Manfuso. Niente da fare, però, a quanto pare Eleonore non ci crede. Anzi, tra ieri sera e stanotte ha detto in giro per la casa che Luca non sarebbe innamorato di Soraya. Sulla base di cosa se ne sia convinta non si sa, e pare che nessuno le creda tra l'altro. Alberto De Paisis per esempio ieri sera ha detto durante una chiacchierata con Eleonore che Luca è molto innamorato. La risposta di lei non si è fatta attendere, lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraya? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì. Ne ha parlato anche con Antonino Spinalbese, in una chiacchierata in cucina nella notte. Nino, come lo chiamano nella casa, è caduto dal pero, non ha nascosto di non essersi accorto di niente. Le sue espressioni mentre Eleonore parlava di Luca sono diventate un meme. Nessuno si è accorto di nulla, solo la Ferruzzi è convinta che Salatino sia interessato a lei. Lo dice senza troppi giri di parole, convinta anche del fatto che l'ex tronista si sia tirato indietro per altri motivi non per Soraya. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.